Dopo David Lynch, David Cronenberg, William Fredkin e George Romero, sarà Oliver Stone il protagonista di una delle principali sezioni del Lucca Film Festival Europa Cinema 2017. Il regista, sceneggiatore, produttore e attore statunitense, tre volte premiato agli Oscar, sarà a Lucca per la consegna del premio alla carriera e una conversazione sul cinema. Avremo un tre volte premio Oscar come Oliver Stone, Lucca, regista di film clamorosamente famosi, che amiamo tutti come Platoon, come è nato il 4 luglio, ma accontenteremo tutti, accontenteremo i grandi, i bambini, i ragazzi, avremo un omaggio a Julian Temple e parleremo di punk con lui per i più scalmanati, come avremo Willem Dafoe, il grandissimo attore americano, che abbiamo visto in film impegnati, importanti come Pasolini, ma anche in film famosissimi, cinecomics come Spider-Man, per i più piccoli. Tra le novità di questa edizione, la sezione Effetto Cinema Notte, che viene stesa tutta la settimana festivaliera, è arricchita per il primo anno di due concorsi, destinati a premiare il locale meglio scenografato, e la migliore performance artistica. Due le mostre di quest'anno, entrambe curate da Alessandro Romanini. La prima, strettamente legata alla manifestazione, si intitola Punk Dada Situation e si inaugurerà il 3 aprile alla fondazione Ragghianti di Lucca. La seconda, che si apre il 18 marzo alla GAMC di Viareggio, inaugura la collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e l'Istituto Luce, e rende omaggio a Federico Fellini, dando vita, attraverso le tavole esecutive delle scene realizzate dagli studenti, al suo film mai girato, Il Viaggio di Mastorna.